Buongiorno a tutti ragazzi, perdonate un po' questa voce nasale ma non sono al 100%, dovrete conviverci per questo video e per gli appuntamenti di oggi. Intanto vi ringrazio per l'appuntamento di ieri perché il video sulla Juventus di Tiago Motta sta letteralmente volando. È solo un gioco, un'elaborazione, non c'è niente di certo però ho avvertito un po' di voglia di cambiamento dopo 8 anni da parte di guida tecnica di Massimiliano Allegri. Quindi a quanto pare il tifoso della Juventus ha voglia di confrontarsi anche con altre ideologie e con altri approcci per quelli che possono essere i metodi ad arrivare a vincere le partite. Intanto vi ricordo gli altri appuntamenti oltre a questo video. Oggi doppia live, la prima su BoboTV Channel, ore 14, doppio passo, abbiamo organizzato un giochino molto divertente in cui andiamo a scontrare gli allenatori e le loro ideologie. Tanto per tornare al discorso con il quale abbiamo aperto questo video. E la chat sarà protagonista, quindi non mancate assolutamente ore 14 su Twitch. Invece sempre su Twitch, ma questa volta sul mio canale, intorno direi alle ore 17.15, quindi 5.15, avremo il confronto tra Giovanni Albanese e Fabio Villani di Live Bianconera. Non perdetevelo, poi domani verrò a ricaricare qui su YouTube alcuni pezzi più importanti, quelli in cui ci saranno le discussioni più interessanti. Ma non perdetevi ovviamente dal vivo, oggi pomeriggio, questo confronto tra due titani, diciamo così, scontro tra titani. Ieri sera mi sono augurato il secondo tempo del Real. Il secondo tempo del Real che è stato abbastanza brutto. Ha rischiato, poi alla fine c'è riuscito con la giocata, se vogliamo, di Bellingham insieme a Vinicius e la Coppa del Real Madrid. C'è poco da fare, non lo scopriamo certo oggi. Poi, da difusione da Juventus, è positivo che il Real sia riuscito a passare, perché l'Inter credo che anche quest'anno sia una delle candidate ad arrivare fino in fondo alla competizione. E quindi tenere dentro una leggenda come il Real Madrid, che sembra particolarmente a suo agio all'interno della competizione, è qualcosa di positivo. È ovvio che sono robe proprio da tifosi e nulla più. Però c'è da segnalare un Bernabeu che ha fischiato, a fine primo tempo, non soddisfatto di quello che aveva visto nella prima frazione. Un Real Madrid troppo brutto, per essere vero, nonostante le tante competizioni vinte da Ancelotti, nonostante il campionato che stanno facendo anche quest'anno. Il Bernabeu ha detto così anche no. Un po' di statistiche. Stavo controllando l'Atalanta. L'Atalanta in casa della Juventus non la battiamo, ok? Dal 2018, marzo 2018. Quindi esattamente sei anni. Tra dieci giorni saranno sei anni. Anzi, una settimana saranno sei anni che non vinciamo contro l'Atalanta in casa. Una partita vinta grazie alle reti di Higuain e Matuidi. Poi, dopo quella partita lì, abbiamo vinto due volte in realtà in Serie A contro l'Atalanta. Una volta, anzitutto due volte a Bergamo. La prima che mi viene in mente è quella rimonta anche con Barro che sbaglia il rigore. L'anno di Sarri, con doppietta di Higuain e gol di Paolo Di Bala. Una partita dove, a memoria, non era stato convocato Cristiano Ronaldo. Eravamo privi di Ronaldo. E una invece l'anno scorso con quel magico gol di Dusan Vlaovic nel finale che va a zittire la curva dell'Atalanta che l'aveva punzecchiato con core rassisti per tutto il tempo. Quindi, diciamo che bene o male la Juventus, dal punto di vista del rendimento contro l'Atalanta, molto meglio in trasferta rispetto che in casa negli ultimi anni. E però da qua bisogna ripartire. Perché la Juve è troppe gare che non fa punti. Anche l'Atalanta, in realtà, perché non vincano dalla partita per 3-0 col Sassuolo. È l'ultima vittoria dell'Atalanta. Poi ha perso il recupero con l'Inter. Ha pareggiato, mi pare, col Milan. Ha perso col Bologna. E ieri sera ha pareggiato con la Sporting Lisbona. Però vi invito ad andare, quantomeno, a recuperare gli highlights di quella partita lì. È un 1-1 firmato da Scamacca, che, diciamo, non è proprio il giocatore migliore di questa stagione per il club bergamasco. Su una follia, anche, della retroguardia del portiere dello Sporting Lisbona. Però l'Atalanta ha creato tantissimo e bisognerà cercare di limitarli, soprattutto sugli esterni, dove è lì che arriva poi la loro forza. Non che la Juve sia messa bene dal punto di vista del rendimento recente. Lo sappiamo benissimo. L'unica vittoria nell'ultima partita è quel 3-2 al novantesimo in casa col Frosinone. Quindi stiamo parlando di troppo poco per la Juve. E poi c'è un tema. Perché prima parlavamo di Vlaovic, del gol che ha fatto proprio Bergamo l'anno scorso, il gol vittoria, che ci dà la serenità del 2-0, che va a chiudere una partita lì. Ma Vlaovic sarà squalificato per via di quel folle cartellino giallo rimediato al Maradona. Una regola che non esiste, che l'arbitro ha voluto praticamente inventarsi. E questo è un peso, perché la Juventus dovrà fare a meno di Dusan Vlaovic per una roba un po' assurda. Poi era diffidato. Magari il giallo lo prende la colata l'Atalanta e saltava al Genoa. Ma non è quello il punto. Il giallo lo dai quando c'è effettivamente l'estremo per darlo. Vabbè. E poi ci sono delle tematiche. Oltre a chi sostituirà Vlaovic. Torneranno Rabiù e Meccenni? Almeno Rabiù e Meccenni? Perché abbiamo visto una composizione di centrocampo particolare, no? L'altro giorno contro il Napoli. Con Meretti e Alcaraz. Una mediana molto più tecnica, molto meno fisica. E forse è anche per quello che la Juventus ha approcciato una gara in maniera più offensiva rispetto al solito, creando più occasioni da gol perché cercava di essere più propositiva, cercava di verticalizzare con più costanza, cercava di pressare con più insistenza. Queste sono tutte, secondo me, riflessioni legate appunto ai giocatori che erano stati schierati da Allegri. E forse anche lì si legge la preferenza di Ling Junior piuttosto che Kostic. E allora qua la domanda come approccieremo la gara? Quale sarà l'approccio della Juve? Perché forse anche dalla formazione titolare qualcosa si capirà. Se gioca Kostic forse un po' più coperti, se gioca a Ling forse un po' più spregiudicati, se a centrocampo non recuperano Rabiù e Meccenni forse andremo a fare un copia e incolla della partita che abbiamo fatto col Napoli. Ma è difficile da dire. È molto complicato. Non solo perché l'Atalanta, ma perché la Juve, che cambia tante volte, non abbiamo delle cose a cui aggrapparci per comprenderlo al meglio. Poi, la partita che abbiamo giocato in casa, anzi a Bergamo, quest'anno in trasferta, quindi la partita d'andata contro l'Atalanta, è stata uno 0-0 dove la Juve scende in campo con un'unica intenzione, quella di non prendere gol e portare a casa almeno un punto. È stata una partita in cui abbiamo anche rischiato abbastanza dove Chiesin ha dovuto fare una parata su una punizione di pare di Muriel all'andata. quindi sono stati 90 minuti di sofferenza, possiamo dire così. E invece, basti pensare all'anno scorso in casa, quindi l'ultima giocata in casa prima di quella che ci sarà domenica, dove abbiamo fatto un pirotecnico 3-3, dove la Juventus ha prodotto tanto, ma dove ha fatto anche tanti errori individuali in difesa, subendo dei gol sinceramente evitabili, ma quella era stata una bella risposta dal punto di vista emotivo e dello spirito alla penalizzazione che era stata inferta la Juve, inflitta la Juventus, perché era la prima partita dopo la penalizzazione e vado a memoria anche in quell'occasione dopo essere passati dal Maradona, perché secondo me è stata esattamente la partita giocata dopo il 5-1 di Napoli. Quindi, diciamo che c'è un collegamento, una reference da questo punto di vista. E quindi bisogna stare molto attenti, bisogna cercare di capire le scelte di formazione dove andranno, bisognerà capire anche tra Chiesa e Ildis chi scenderà in campo. Poi c'è sempre la possibilità di ragionare su un tridente, cosa che io non credo. Ve lo dico sinceramente, secondo me la Juventus farà una partita in cui ragionerà di alzare la mezzala di destra, che immagino potrà essere uno tra Alcarest e Miretti, in pressione su quello che sarà il braccetto di sinistra dell'Atalanta per andare a fare uomo contro uomo, uomo su uomo, in pressing negli ultimi metri di campo, perché la Juventus è una squadra che il pallone tra i piedi non lo vuole neanche per sbaglio, quando ce l'ha non sa cosa fare e quindi le soluzioni sono due. O vai a pressare uomo su uomo quando loro ripartono da dietro, e l'Atalanta lo fa spesso e volentieri, oppure fai le barricate dietro, come è stato a Bergamo, però queste sono le due soluzioni che oggi può proporre la Juventus e per quanto mi riguarda le prime partite di Serie A, la partita in casa contro l'Inter, la partita del Maradona contro il Napoli, lasciando stare i risultati, ma soltanto di quella che è stata la percezione della prestazione, sono state sicuramente prestazioni migliori e che secondo me ti danno una possibilità in più di vincere con l'Atalanta in casa, perché sei anni che non si vince con la Dea sono un lasso di tempo francamente troppo elevato e che va riscritto, però sono tutte considerazioni al vento in questo momento, io spero che la Juventus possa fare una bella partita, possa portare a casa i tre punti, perché ha bisogno di invertire un po' la tendenza. Io vi ho detto che secondo me la Juve non rischia la qualificazione Champions in questo momento, poi è ovvio che le prossime due partite, se non tre, che sono quelle che affronteremo a marzo, sono impattanti, le prossime due sicuramente, perché poi c'è una pausa nazionale, quindi fare un bottino di punti nelle prossime due sarebbe importante. Io quando l'altro giorno vi ho detto che secondo me la Juventus farà 17 punti da qui alla fine, avevo calcolato un punto con l'Atalanta e un punto con il Genoa, dicendo che nella più rosa delle aspettative comunque la Juventus potrebbe farne quattro, perché i tre punti col Genoa in casa sarebbero un desiderio forse anche basilare per la Juve, ma il Genoa è una squadra che si è rivelata tosta in questa stagione. Sul Genoa ho sbagliato completamente la previsione perché non mi fidavo di Palladino e invece Palladino sta facendo un'ottima stagione con il Genoa. Poi è ovvio che farne sei sarebbe ancora meglio, però non mi sembra che la Juve sia guarita in questo momento per ragionare sui sei punti. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, perdonatemi per questa voce un po' così, però questo è il massimo che potevo fare oggi. Ci vediamo oggi pomeriggio, ciao!